Vottor Marco Negoli, specialista in anestesia e terapia antalgica, ospedale civile di Pacevara. La terapia del dolore, chiamata anche terapia antalgica, è una specializzazione medica che si occupa della valutazione e della cura dei pazienti affetti del dolore. La visita antalgica è una valutazione che richiede tempo ed attenzione ed è fondamentale per identificare la causa del dolore e iniziare un trattamento personalizzato. In terapia antalgica si eseguono trattamenti conservativi, cioè non chirurgici. Tra questi, il trattamento principale è il trattamento infiltrativo, cioè la sommestrazione di farmaci in alta concentrazione, esattamente nella sede da cui nasce il dolore, al fine di massimizzare l'effetto antidolorifico. I dolori curati nell'ambulatorio di terapia antalgica e all'ospedale civile di Pacevara sono principalmente il mal di schiena, la sciatica, il dolore all'anca e il dolore al ginocchio. In un anno eseguiamo oltre 600 visite antalgiche, 440 infiltrazioni alex guidate per curare i dolori da sciatica e la mal di schiena e oltre 350 infiltrazioni articolari a livello di anche di cinocchio. Lo specialista in terapia antalgica è un medico chirurgo specializzato in anestesia che ha successivamente intrapreso una formazione specifica nella cura delle persone affette dal dolore. Sono anestesisti che hanno svolto master e hanno esperienza specifica in questo ambito. Le finalità della terapia antalgica sono ovviamente la riduzione e l'illuminazione del dolore, ma in senso più complessivo sono il miglioramento della qualità della vita delle persone affette dal dolore e il favorire e la mobilità di questi pazienti. Collaboriamo in particolare con medici di famiglia, con neurochirurghi, ortopedici, medici riabilitatori e neuroradiologi. Lo scambio di informazioni tra i medici permette di ottimizzare la cura soprattutto nei casi più complessi. Spesso lo utilizzano pazienti inviati dai medici di famiglia, altre volte sono i neurochirurghi o gli ortopedici di inviare i pazienti per valutare l'eventuale indicazione delle infiltrazioni o ad altri trattamenti farmacologici. Questo permette di selezionare anche con maggior cura i pazienti a cui proporre un eventuale intervento chirurgico. Infatti quando il paziente ha beneficio nel dolore, riduzione o scomparsa il dolore, attraverso le infiltrazioni per lasciate proprio i dolori all'anca, l'intervento chirurgico spesso viene escluso. L'accesso all'ambulatore viene con l'impegnativa per una visita antalgica fatta dal medico di medicina generale o dallo specialista ospedaliero. Il paziente telefona al centro di termine di prenotazione dell'ospedale civile Pagovare per prenotare un appuntamento.